Complimenti. Grazie. Ho visto vincere una bella orza anche stasera con la perna di Ponnace. Senti, ma ho visto sbarillare, come mai? Perché Bartoletti ha provato a buttarmi in terra. Eh, ha provato a passare. No, no, mi ha tirato pella giù. Eh, vabbè, per scorrere, vabbè. Cioè, oggi a te, domani a me. Sei stato bravo a cascare e hai vinto una bella orza. Davvero. Ma parla a te, un po' parla a me. Grazie. La partita giù? Eh? Eh, per passarti. Le cose succedono nelle gare, dai, su. Non ho sbarillato perché non sono allenato. Ho sbarillato perché ho provato a darmi su. Bello il fatto facile? No, no, non ce ne ho nemmeno parlato. No? Eh, vabbè, queste sono cose panni, non deve finire. Finite le orze, finito la prossima volta, capite. Eh, certo. Eh, no? Eh? Una volta io, una volta te. Comunque hai vinto la bella orza. Senti, bar. C'hai niente? Niente. Andrea Cosa? Niente. Nessuno, ti hai detto ma per resti? No, ma con nessuno. Andrea Cosa? Andrea Cosa? In bocca al lupo. Comunque stai migliorando corsa per corsa. Ciao. 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 Ciao.